Parto da te, avevi lasciato la Rocchese nell'anno in cui su questo campo è stata costruita una promozione grandissima contro lo Sporting a Tripalda in prima categoria, ci torni e lo fai nel migliore dei modi con un calcio di punizione spettacolare. Sì, 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 quella è stata un'annata stupenda con la vittoria del campionato, dopo tre anni, quattro, tre, quattro anni siamo ritornati qui, da ultimo arrivato ed è una bella soddisfazione entrare e fare il gol vittoria, è sempre bello, è sempre bello. Sì, è stata una vittoria di gruppo, questa è la prima cosa, siamo una famiglia. Altro subentrato dalla panchina, Cristian parlava di famiglia, il mister ha sottolineato che in questa squadra non ci sono titolari in riserve, l'avete dimostrato voi subentrando appunto e ribaltando l'iniziale 0-1. Sì, sì, è vero, noi diciamo anche noi della panchina dobbiamo essere sempre pronti ad entrare, tant'è che con il mio gol e il suo abbiamo fatto i gol vittoria, ecco, ed è grande merito anche di tutto il gruppo, della squadra che ci ha messo a disposizione, e il mister che ci ha fatto entrare. Il merito va a loro, noi abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, tutto qua. Vittoria di carattere, perché insomma di fronte c'era una signora squadra che ha fatto il suo golletto approfittando della prima vera occasione da gol e ha creato una sorta di barriera davanti a Gigi Amabile, però insomma caparbietà e anche prontezza, avete ribaltato il risultato contro una squadra di quelli che ambiscono ai primissimi posti. Sì, è stata una partita dura, a noi ci stava un po' costretto il risultato, diciamolo la verità, già sul pareggio avevamo cominciato a capire che la potevamo ribaltare. Ultima domanda a te, con questo risultato confermate a chi magari non credeva in voi dall'inizio che ci siete anche voi per i primissimi posti della classifica, perché come detto con la forza del gruppo siete capaci anche di ribaltare un risultato contro la Scafatessa. No, noi non abbiamo nessun obiettivo, il nostro obiettivo è fare soltanto i 36 punti per la salvezza e poi partita dopo partita vediamo dove possiamo arrivare.